Si è conclusa la quarta edizione del Certamen Latinum manifestazione dedicata alla memoria di Febo Allevi organizzata dal liceo classico Leopardi di Macerata. Ospite d'onore il giornalista Rai Francesco Giorgino che ha sostenuto la grande importanza nella società attuale dello studio del latino. Nella sala Castiglioni della biblioteca Mozzi Borgetti presente anche il sindaco Carancini che si è congratulato con la dirigente Marc Antonelli per le tante attività e la crescita degli iscritti del liceo Leopardi vera eccellenza cittadina. Per quanto riguarda il concorso nella categoria juniores primo classificato cum terra tremit del quinto B liceo Leopardi di Macerata secondo classificato la parola al potere del secondo B di Senigalia terzi classificati ex equo corrispondenza nel mondo latino nell'attualità del quinto D e superstizione credenze popolari del quinto A entrambi delleopardi di Macerata. Nella categoria seniores invece prima classificata Giulianardi della classe terza sempre del liceo Leopardi Macerata secondi e anche qui ex equo Filippo Petracci della quarta C di Fermo e Riccardo Brizio della seconda B di Macerata. Terza classificata sempre del liceo Leopardi di Macerata Veronica Moriconi della classe terza. Un pensiero particolare è stato rivolto anche a Maria Grazia Capulli a cui è stato intitolato il premio della sezione juniores. Sono stati oltre 600 gli studenti di istituti superiori che hanno partecipato a porte aperte in Unicam il consueto appuntamento di orientamento della scelta universitaria. I ragazzi di quarto e quinto superiore sono arrivati da tante parti del territorio nazionale come Abruzzo, Sicilia, Puglia, Toscana, Lombardia, Calabria, Umbria, Veneto, Campania, Emilia Romagna, Lazio e naturalmente da tutte le marche sia in gruppo accompagnati dai docenti ma anche singolarmente con amici e familiari. Significa che quella che è la nostra offerta formativa è di grande pregio, è di grande valore, significa che quelli che noi iscriviamo e poi accompagniamo verso l'ottenimento di una laurea poi hanno grandi possibilità di trovare impiego, di trovare lavoro, di trovare occupazione di raggiungere i propri sogni. Ad accogliere gli studenti, docenti, ricercatori, professionisti, studenti universitari e personali Unicam coordinati dalla Commissione dei Delegati e del Servizio Orientamento dell'Ateneo. Infine il Rettore chiude con una conferma delle agevolazioni agli studenti. Stiamo valutando se mantenere l'esonero totale per tutti gli studenti, per tutte le categorie di studenti o se mettere una piccola tassa per alcune situazioni particolari, ad esempio corsi dove sono richieste attività di laboratori e viaggi di studio e quant'altro che richiederebbero chiaramente un contributo superiore a quello che è il contributo normale per lo studio. Però stiamo lavorando di concetto con il Ministero proprio per mantenere l'esonero anche nell'anno accademico che inizierà ad ottobre prossimo.